o sembra incredibile ma finalmente ce l'abbiamo fatta finalmente siamo riusciti a fare questo benedetto spot quindi ve lo lascio ascoltare e un grazie a tutti ok questo è lo spot di single milano ciao sono alessia sono iscritta simbol milano e domani vado a ballare con la comune ciao sono sarà sono iscritto a single milano e domani sera vado a fare l'aperitivo con la community ciao sono nicola sono iscritto a single milano e questa settimana andrò alla mostra con la community no dating but party www.single milano.it presto anche nella tua città ciao sono steve sono iscritta a single milano e domenica vado alla grigliata con la community ciao sono vince sono iscritto a single milano e domani vado al cinema con la community ciao sono angela sono iscritto a single milano e questa settimana me ne vado al mare con la community no dating but party ciao 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 ciao